E' una pizza? E' un capitano! Un capitano, è solo un capitano! Un capitano, è solo un capitano! un capitano un capitano questo è il calcio un capitano e che fa? non è il pallone non è il pallone non è il pallone che fa? dai nell'angolo paura vai dai vado a muoverle vado a muoverle questo qua è un po' per per tutti adatta la voce mi raccomando è la parola fai la cosa importante ehi adatta la voce a voi è un napoletano no? no no a volte ti senti triste altre felice a volte a volte senti il tuo cuore che batte altre non lo senti più ma in questi momenti vanno condivisi con qualcuno beh quel qualcuno sei il nostro miglior amico ricordalo sempre e sappi che anche se sarai lontano in fondo saremo sempre vicini a te pronti a sostenerti e a dirti che nella vita è meglio avere cicatrici che rimpianti chiunque può simpatizzare col dolore di un amico ma solo un amico nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico il tuo è masca il volo è messo è messo grazie grazie silenzio io volevo solo questa sera per vedervi offrirvi un aperitivo solo per ringraziarvi senza polemiche senza niente solo per dire grazie che se dove se dove se sono dove sono adesso e grazie a voi grazie alla società grazie a tutti anche grazie ai compagni di squadra sono contento che Gigi sta qua mi fa molto piacere e e si il più importante per me era per guardare avanti volevo fare questo per dire per salutarvi nel modo giusto questo era il più importante perché meritate tanto rispetto e solo questo e noi gli diciamo solo grazie grande du grazie 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 grazie